Ehi, Genki! Ehi! Rhyno! Cosa? Già, dove sei? Sei riuscito a entrare in casa? Sì, mi ha aperto tua madre. Ho svuotato i bagagli per terra. Ora sono al parco a fare due passi. Ah, ottimo! Passa dall'antiteatro. Voglio mostrarti qualcosa. C'entra col ragno! Ti prego, dimmi che hai preso un pezzo del corno di Rhyno! Ho visto delle foto del combattimento! Pazzesco! Sì, c'entra col ragno. Ma è molto, molto meglio di un corno. Oh, adoro la suspense. Arrivo! Genki mi starà aspettando all'ampiteatro. Sì, c'entra col ragno. Non credo che mi ci abituerò mai. Ehi, guarda! Regalo di Natale da Spider-Man. Aprilo! Bello! Provalo! Ti copro io! Beh? Mai visto nessuno cambiarsi a Central Park? Ok. Come mi sta? Dovamo andare. Wow! Maiens Morales, congratulazioni e benvenuto al tuo primissimo supercostume! Vai a Nord per la seconda parte del tuo regalo. Questo è solo metà regalo. E dov'è l'altra metà? Ti avviso quando la trovo. Benvenuti a Solo i fatti insieme a me, il conduttore che non ha paura delle verità scomode. E' l'altra metà.